buongiorno oggi ho il piacere di leggervi l'incipit di questo libro di federico baccomo da questo muove questo interrogativo basico ma tu sei felice sono 200 pagine di ping pong tra due amici che a volte litigano discutono dibattono su temi importanti e meno importanti tra l'altro un testo che è stato portato a teatro da claudio bisio e da dei punti di rara comicità anche se bisogna leggerlo tutto io vi do solamente una chicca di aperitivo dialogo tra due personaggi vincenzo e saverio ma tu sei felice dipende da cosa intendi per felice felice se preferisce intendi uno che è soddisfatto di sé di quello che fa ed è felice allora no non sono felice ma se per felice intendi uno che è soddisfatto di sé di quello che fa anche se non è proprio felice allora sì posso dire che sono felice infatti lì è mia moglie che mi fa venire i dubbi sono lì che mi sto preparando per uscire che la vedo che mi guarda fisso poi mi dice secondo te siamo felici io ci giuro non so cosa rispondere ma che vuoi che ti dica già che devo andare in posta ti metti a farmi quiz le donne sono un po così domandano sì ma un sacco domandano e se non gli rispondi si arrabbiano sì ma un sacco si arrabbiano e non è una cosa così estemporanea no ed è un pezzo che va avanti in questa maniera oggi è la storia della felicità ieri erano le camicie tra l'altro bella quella che hai su ti piace ha un colletto particolare ha un nome specifico questo colletto egiziano marocchino ora mi sfugge qualcosa comunque di extra comunitario comunque a dimostrazione che quando vogliono anche i colori non sono male nero con quelle striscioline azzurre mi ha colpito e per dirlo io che sono della juve ottimo organico quest'anno centrocampo forse da rivedere poco incisivo sono d'accordo ma dicevi delle camicie sì faccio notare a mia moglie che abbiamo un problema con la signora che viene a fare le pulizie quella con l'alopecia guarda non tiriamo fuori quella storia lì che appena mi azzarda a fare una battuta subito mia moglie salta su sta zitto che pure tu in alto non è che sei messo benissimo sì ma almeno compenso con un po di barbetta le dico io e mia moglie se per questo anche lei un po di barbetta ce l'ha ora correggimi se sbaglio ma per come la vedo io una donna con un po di barbetta non compensa a grava sfido chiunque a darti torto ma facciamo finta di nulla chiudiamo un occhio quello su cui però non posso chiudere un occhio è la piega della stiratura che mi lascia sulle camicie guarda qua eppure qua e non si fa così la gente queste cose le nota e che figura ci fai certo non bella avete avuto un'idea di quello che è questo botta risposta batti e ribatti dei due protagonisti che si passano la palla come in un incontro di tennis buon proseguimento di giornata